Tonnellate di rifiuti urbani nel fiume Raiale. Si è reso necessario l'intervento straordinario dei mezzi pesanti per ripulire le sponde del fiume Raiale in via di esondazione proprio a ridosso del cimitero della frazione di Paganica a causa della sporcizia ritrovata all'interno. Tonnellate di rifiuti urbani e detriti trasportati a valle dalla corrente hanno struito il letto del corso d'acqua creando il cosiddetto effetto imbuto. L'amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio presieduta da Ferdinando Galletti ha svolto i lavori di manutenzione straordinaria durati una settimana con automezzi cingolati e fondi propri ma lancia l'ennesimo appello al senso civico di ogni cittadino. Rivolgiamo l'ennesimo appello alla popolazione affinché si presti attenzione e si segnalino atti incivili come questo. È vergognoso e inaccettabile fuori da ogni logica conferire rifiuti di qualsiasi natura nel corso d'acqua che attraversa una delle valle più caratteristiche delle nostre montagne quella della Madonna da Pari. Un bene prezioso, dice Galletti, per tutta la collettività. Rispettare l'ambiente significa preservare la salute dei cittadini.